non si vede niente regà è buio buio pesto non c'ho mancata la torcia comunque stiamo salendo nella pineta non si vede niente o meglio con il cellulare non si vede niente un po' vedo sono le 5.25 5.24 è tosta salì qua sta schiarendo ma è appena l'alba sono le 6.12 non so se si vede sono le 6.12 sto salendo verso il gioco del pallone gli animali ne ho sentiti tanti non ho visto neanche uno c'è una golpe c'è una golpe c'è una golpe ecco la ecco la buongiorno e buon ferragosto a tutti sono le 7 e un quarto sono lento 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 ma miglioreremo lento 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.